ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Lele King TV con questo spacchettamento con ce l'ho mi manca di euro 2016 perché quest'album qui ragazzi stranamente non l'abbiamo terminato questo euro 2016 e l'album l'avamo iniziato prima di fare video su youtube è un album che non avevo completato poi ho portato qualche video anche negli anni passati comunque è un album non completo ragazzi non completo al cento per cento quindi abbiamo dei pacchetti ho trovato molti pacchetti da aprire e andiamoceli aprire vediamo cosa esce fuori da sti pacchetti di euro 2016 apriamo il primo come al solito ragazzi iscrivete sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel like la vostra figurina preferita Hintger Dreamich Aziz Skoda oh Cristiano Ronaldo ragazzi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo andiamo avanti e troviamo Kirali Sommer Balta Gusev Wernblum andiamo ancora avanti le bustine sono un po' vecchie se stanno un po' appiccicare Bekovisky e Mac Budescu Levki Gislasson e Sacco della Francia quarta bustina poi andiamo a vedere quello che ci manca Henderson Diarrà e Valbuena Sen Skulason ancora Cristiano Ronaldo non ce posso credere ragazzi doppio Cristiano Ronaldo doppio 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 Cristiano Ronaldo Priskin Kuseru Evans Carvaio e Denayer ragazzi adesso sistemo le figurine in ordine numero e le andiamo a attaccare speriamo che almeno uno ce ne manca del Cristiano Ronaldo speriamo che almeno uno ce ne manca siamo pronti a iniziare si inizia con la Francia con la figurina numero 24 diamo anche un'occhiata generale a questo album perché poi in alcune cose somiglia molto a quello di quest'anno in alcune cose allora abbiamo la numero 24 ce l'abbiamo Sacco tipo le figurine movimento queste adesso vi faccio vedere la 41 che ce l'abbiamo sono similari a quelle di quest'anno poi andiamo alla Romania abbiamo la numero 62 che c'è e anche la 67 la Romania ce l'abbiamo già quasi completa poi c'è l'Albania Svizzera 101 Sommer ce l'abbiamo 120 ci manca qui sotto 138 dell'Inghilterra ci manca poi la 211 quindi dobbiamo andare avanti qui a Russia pure c'è sta la povertà assoluta non c'abbiamo neanche una figurina tra un po' la 211 ce l'abbiamo la 285 ci sono delle squadre che cioè veramente ci sono pochissime figurine alcune che sono quasi complete mi ricordavo sto fatto del suo album 331 331 ci manca 331 buono la 402 la 402 scoda ci manca la Repubblica Cera ci mancava solo che non ci mancava cioè ci sta nessuno su sta pagina di sto album la 406 ci manca della Turchia che ha ziz poi abbiamo la 407 Balta sempre della Turchia poi abbiamo la 418 poi abbiamo la 471 e ci manca del Belgio abbiamo iniziato male però stiamo recuperando ragazzi stiamo recuperando poi 562 che è la Svezia ce l'abbiamo e 564 invece ci manca poi dobbiamo andare al Portogallo dove c'è anche il doppio Cristiano Ronaldo 587 ce l'abbiamo dove è eccolo poi abbiamo la 597 che va qui ci manca una l'altra è doppia ragazzi l'altra è doppia eccola qua poi andiamo all'Islanda dove abbiamo la 614 ci manca la 620 la 634 la 661 ce l'abbiamo e anche la 679 ce l'abbiamo perché queste ce le abbiamo tutte praticamente dell'Ungheria l'Ungheria è l'ultima squadra e poi dopo non ci dovrebbero essere più figurine vediamo un attimino no non ci sono più figurine ok ragazzi per questo video è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti